Ehi la ciù ormai, io sono Mazzetess e benvenuti in questo nuovissimo video! Questo video è un contest particolare per il numero di 100 iscritti che abbiamo raggiunto un po' di tempo fa, ma nel frattempo, come potreste già sapere da una delle serie che ho ripreso, come per esempio Alien Breed, ho avuto una sessione esami molto impegnativa e di conseguenza l'impegno per Youtube è passato in secondo piano, come è giusto che sia. Ora ritorno anche con questo contest per ringraziare un po' tutti voi che comunque nonostante tutto continuate a seguirmi. Il contest ha un regolamento molto semplice, per partecipare è sufficiente mandare un'email al mio indirizzo che è mazzetess.gmail.com e potete trovare in sovraimpressione, suppongo, o qui, o qui, o qui, da qualche parte lo metterò, o comunque è lo stesso in descrizione, come tutto il regolamento sarà. e potete vincere delle key di giochi per Steam. Inviare all'indirizzo email che cosa chiederete voi, le risposte a quattro semplici domande che adesso vi spiegherò. Per quanto riguarda invece i premi, i premi sono divisi per scaglioni, nel senso se ci saranno da 0 a 10 partecipanti, il premio sarà una key di Teleglitch Die More Edition, di cui potete vedere il trailer qua alla vostra destra. Cliccando sopra potete vedere il trailer e farvi un'idea di che tipo di gioco sia, se per caso già non lo conoscesse. Se invece ci saranno più di più partecipanti, quindi più di 10, numero compreso tra 10 e 30, quindi tra 10 e 30 partecipanti al contest, ci sarà in palio una key del videogioco Magica. Un gioco molto carino, della Paradox, che è molto bello da fare in co-op e potete vedere anche di questo videogioco, il trailer, sono un po' dislessico, il trailer qui alla vostra destra. Se invece, caso estremamente fortuito, ci saranno più di 30 partecipanti, ma nel senso non è detto, potrebbe anche accadere, ci sarà in palio un'altra key per il videogioco Magica, di cui avete visto un attimo fa il trailer, se per caso avete cliccato sopra. E per tutto questo ci sono due settimane di tempo, nel senso che tra due settimane dalla data di pubblicazione di questo video, quindi potete fare riferimento alla data che c'è qui sotto, io sorteggerò i vincitori, il numero di 1 se i partecipanti sono stati meno di 10, 2 se sono stati meno di 30, 3 se sono stati più di 30, e farò un altro video per annunciare i vincitori del contest, che verranno poi appunto contattati dopo essere stati proclamati, insomma, in base all'indirizzo email, rispondendo all'indirizzo email con cui mi hanno contattato, con cui hanno partecipato al contest. Detto questo, io vi ringrazio davvero per essere arrivati a questa cifra, io non me lo sarei mai aspettato sinceramente, però è davvero gratificante vedere che qualcuno apprezza gli sforzi fatti e che quello che è un hobby viene anche riconosciuto da qualcun altro. Ringrazio allo stesso tempo anche Marco88 che da ormai quasi un anno collabora con me facendo delle serie che ho visto sono state abbastanza apprezzate e comunque è diventato anche un caro amico, quindi ciao anche a Marco88. Noi ci vediamo con il prossimo video che sarà, non lo so, ma uno a scelta tra Alien Breed, Saints of War, che è il nostro sovracitato Marco88, oppure Spore o il carissimo Mindtest, di cui ho un sacco di cose che dovrei fare che non ho ancora fatto. Vabbè, comunque vi invito a lasciare un mi piace, a scrivere un commento, che sono sempre molto graditi, scrivervi se per caso non l'avete già fatto e partecipare al contest. Se poi sapete di qualcuno che potrebbe essere interessato a questo contest, fateglielo sapere. Ciao a tutti! Grazie a tutti!